Io e Spirito Santo, io sono Maria e Gesù è lasciata, grata di Dio per il dono della perseveranza, nella mia vocazione. Con rinnovato, più intenso ardore, offra a Lui la mia vita per tutti gli anni che ancora mi saranno accordati. Voglio servire, sì, da una fine Dio e la Chiesa, nell'osservanza dei tre vuoti di castità, povertà e obbedienza, secondo lo Spirito e il caristro del reato di Dio, la Vergine Santissima, che si è di aiuto, modello e guida, per conseguire quando promessa la gloria di Dio e a servizio della Chiesa, amore. Il Signore Dio che ha iniziato da trattarti in questa opera, la morte è a quel tempo. Nel suo cammino non è solo, perché ha due persone che in una maniera persistente e imparaggiante sono vicini, la superiore dell'aria e la superiore della comunità. Vogliamo un'operazione per formularvi gli auguri di Dio, perché il Signore è dato anche che la società è sempre. A ora. Grazie.